Sopralluogo dei carabinieri del NAS, nucleo antisofisticazione di Palermo, al complesso sorgentizio di Contrada Gulfi a Canicattì, balzato nei giorni scorsi agli onori delle cronache per una presunta attività illecita che sarebbe stata effettuata presso il sito. Al sopralluogo, oltre ai militari dell'arma, erano presenti i tecnici dell'ARPA, funzionari del comune di Canicattì e Girgenti Acque, società che gestisce la distribuzione idrica in città. In particolare, nei giorni scorsi, su questa vicenda, è stato ipotizzato che Girgenti Acque prelevasse in maniera abusiva l'acqua dal pozzo di Contrada Gulfi e che la stessa venisse immessa nei serbatoi comunali senza alcuna autorizzazione, ma soprattutto senza che la qualità della stessa fosse stata accertata. In particolare, i NAS hanno accertato durante il sopralluogo il funzionamento della pompa, la presenza del pozzo di acqua e la sua destinazione finale. Quando i carabinieri dei NAS sono giunti sul posto, non c'era alcun prelievo di acqua dal pozzo di Contrada Gulfi. Sempre durante il sopralluogo, i tecnici dell'ARPA hanno effettuato dei campionamenti di acqua per le successive analisi di laboratorio. Sempre durante il sopralluogo è stato verificato che il terminale della condotta era chiuso nella parte di immissione del liquido nella vasca d'accumulo e che a valle era stata ricavata una diramazione che metteva l'acqua direttamente nella fognatura. Questo pozzo, in passato, è stato utilizzato dal comune di Canicati come unica risorsa idrica della città e nei mesi scorsi il comune, considerata la carenza idrica che interessa la città, ha concesso all'azienda Girgenti Acque, l'autorizzazione di effettuare delle indagini sui pozzi presenti nel territorio comunale e vedere se è possibile utilizzare l'acqua in caso si presenti la necessità. Il sindaco Ettore Di Ventura, su questa vicenda, dopo che il caso nei giorni scorsi era venuto alla ribalta, aveva chiesto immediatamente dei chiarimenti a Girgenti Acque. La società ha risposto che in Contrada Gulfi ha eseguito tutti i lavori propedeutici per accertare se vi sia la possibilità di utilizzo di quell'acqua. Che lavori sono conformi a quelli che la società sta effettuando anche in altri pozzi della zona con il solo obiettivo di migliorare la distribuzione idrica in città, dopo che oramai da mesi Canicati soffre una crisi idrica senza precedenti. Pertanto sono state eseguite numerose attività e soprattutto per cercare di capire se effettivamente sia conveniente economicamente andare a ripristinare quei vecchi pozzi. Durante questi interventi sono state effettuate anche delle prove di portata con l'acqua di Contrada Gulfi che non è mai stata immessa ai serbatoi comunali perché dopo le verifiche della condotta di adduzione alla stessa è stata sempre posta in scarico direttamente nelle fognature.